ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il farmaco veterinario eurica nerpes 205 a cosa serve eurica nerpes 205 a un medicinale veterinario a base del principio attivo vaccino erpetico appartenente alla categoria degli vaccini e nello specifico vaccini virali inattivati è commercializzato in italia dall'azienda beringer in gel e imanimal health italia spa eurica nerpes 205 può essere prescritto con ricetta rrv ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile informazioni commerciali sulla prescrizione titolare beringer in gel e invit medica gmbh concessionario beringer in gel e imanimal health italia spa ricetta rrv ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile principio attivo vaccino erpetico gruppo terapeutico vaccini forma farmaceutica fiale iniettabile confezioni eurica nerpes 205 uno flacone monodose di liofilizzato più uno flacone da 1 ml dissolvente principio attivo in una dose da 1 ml antigeni dell'herpes virus del cane ceppo f 205 da 0,3 a 1,75 7 mg espressi in 7 mg di glicoproteine gb eccipienti olio di paraffina leggera indicazioni l'immunizzazione attiva delle cani e per prevenire nei cuccioli la mortalità i sintomi clinici e lesioni causate da herpes virus del cane contratte nei primi giorni di vita posologia somministrare una dose da 1 ml di vaccino per via sottocutanea secondo il seguente schema prima vaccinazione durante il calore o 7 10 giorni dopo la data presunta dell'accoppiamento seconda vaccinazione 12 settimane prima della data prevista per il parto richiami ad ogni gravidanza seguendo lo stesso schema vaccinale avvertenze vaccinare solo animali sani non mescolare con nessun altro prodotto immunologico ad eccezione del relativo solvente eurica nerpes 205 ha specificamente indicato nel corso della gravidanza non sono disponibili informazioni relative all'efficacia di questo vaccino quando viene utilizzato contemporaneamente ad altri prodotti pertanto la decisione di utilizzare questo vaccino prima o dopo un altro medicinale veterinario deve essere valutata caso per caso fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato